Sì, non c'è la testa, ma perché non io ne chiedi per farmi se non c'è la testa, non ci andiamo? Ma Aline, devi darò una notizia, devi darò una notizia, oggi andiamo dalla zia. Vero, non stiamo scherzando, vi ho fatto una sorpresa. Più tardi andiamo a prendere l'aereo. Sei contenta di questa sorpresa? Sì, però adesso non sa niente nessuno, quindi oggi il telefono lo teniamo spento, quello tuo perché nessuno ci deve scoprire. E a chi vedranno? A noi. E invece a noi. E diranno, ma, ma. Ma che ci vuole? Ma che ci vuole qua? Andiamo a prendere l'aereo, Wendy? Andiamo a prendere l'azia. Aline, sei contenta che stiamo a partire? Sì. Wendy, siamo pronti per partire, prendere l'aereo? Sì. 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 Ops! Ciao! Stiamo andando dall'aereo, è già pronto l'aereo! Ah mamma, quanti baci! Ah! Si parte! Stiamo andando a te! Mamma, è Wendy che c'è il dottorezza! Andiamo! Wendy! Andiamo, Wendy! Se c'è fumo ti metterà a terra! Guardate, noi ci facciamo un poveriggio, signore e signore! No, e ti fa vedere dove sono le poche! Via, ieri... Tieni di forti, ieri! Non èsei camminata nu unioni! Ah, sta tag 엄 обagliareo! aiuto, aiuto, aiuto salto, salto, salto salto, salto 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 no vabbè siamo in giudianto siamo sopra la mare papà wow come fa a partire? cosa non fa a partire? come fa a partire? c'è il motore però che fa che stai facendo? stai mangiando? brava, buon appetito tra poco arriviamo la S, la S, i serpenti cerca la S ecco vediamo brava la O l'abbiamo presa, la N è presa brava, finito andiamo sopra le nuvole andiamo a tirare siiii sembra un tirofilato non vedo niente non vedo niente ora ci vedo non vedo niente ecco 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 guardi guardi ora andiamo alla stazione andy ciao saluta ciao ciao alì saluta sta arrivando il treno buonasera a tutti ciao ciao ciao